A Cosenza, tra uno degli scorci più suggestivi della città, ai piedi del centro storico e alla confluenza dei fiumi Crati e Busento, è stata inaugurata la scultura che raffigura Alarico sul cavallo. La statua opera dell'artista Paolo Grassino, da oggi nell'immaginario collettivo, rievocherà tra storia e leggende il ruolo fondamentale della città Abruzia come possibile custode di uno dei tesori più importanti dell'umanità. Noi vogliamo raccontare questa storia straordinaria che interessa il nostro territorio, Alarico che è una figura trattata in tutti i libri di storia internazionale perché è un po' il punto di convergenza tra la storia antica e la storia medievale, arriva a Cosenza, muore e viene sepolto con il suo straordinario tesoro qui sotto il Busento, così come dice anche la poesia Carducci ripresa da Fonblatene, ci sono storici goti che raccontano di questo evento e quindi è una storia che va assolutamente raccontata, non nascosta, è uno storytelling della città per attrarre turisti e visitatori e interessare tantissime persone che vengono da fuori. Già siamo arrivati ad essere i terzi in Galabria come presenze turistiche, siamo stati inseriti nella guida rossa dei tedeschi e molti visitatori stanno venendo qui, adesso questa scultura rappresenta un po' il simbolo, che è importante, lo troviamo per esempio a Verona con il balcone Giulietta e Romeo, lo troviamo a Copenaghen con la Sirenetta, il mostro di Loch Ness, qui abbiamo una storia che è appunto a basi molto più scientifiche, che però non era stata mai valorizzata, noi stiamo cercando di valorizzarlo perché solo in questo modo si può sviluppare un turismo sul territorio, può essere implementata la ricchezza, ci possono essere nuove opportunità di lavoro e di occupazione per i giovani. Presenti all'inaugurazione oltre a studenti e cittadini tante autorità civili e militari, tra cui il prefetto Gianfranco Tomao, il presidente della Fondazione Carica al Mario Bozzo che ha finanziato l'opera, la curatrice archeologa dei musei capitolini Marina Mattei e il sottosegretario e beni culturali Dorina Bianchi, quest'ultima ha dichiarato tra l'altro il suo pieno sostegno alla candidatura di Cosenza come capitale della cultura 2018. Cosenza ha tutte le carte in regola per candidarsi a essere capitale della cultura, c'è un'opportunità reale, ora si passerà dalle prime 21 in cui Cosenza è entrata alle prime 10. La mia presenza oggi qui, poco tempo fa anche al castello di Federico II, è la dimostrazione che noi vogliamo esserci, che le luci su Cosenza sono accese, che lo sviluppo e la crescita del nostro paese passa attraverso la crescita e lo sviluppo del sud. Grazie 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 Grazie